privietta a tutti ragazzi sono sia buon che oggi facciamo un video velocissimo dove vi faccio vedere un recente acquisto semi tecnologico infatti stiamo parlando di una cover del della marca diciamo head case che abbiamo preso che il gentilissimo melvin manor mi ha donato recentemente e quindi facciamo questo unboxing insieme abbiamo le nostre forbici ikea dovevo sottolineare che erano ikea ma in realtà qui non serve basta strazzare tutto serve perché sono impedita vedete come scivolano bene queste forbici in realtà non so neanche qual è il soggetto quindi lo scoprirò insieme a voi questo è il retro giriamo sono bellissimi guardateli io ovviamente questa marca avevo già regalato io a lui una vecchia cover praticamente fa dei design bellissimi a prezzi risori infatti ci aggiriamo sulle quattro sterline sono praticamente sempre in offerta quindi li trovate sempre a quattro sterline poi alla fine vabbè col cambio viene un 6 7 euro dipende dal momento e veramente la qualità il rapporto qualità prezzo è impressionante perché sono bellissime la stampa diciamo perché è praticamente stampata sulla plastica come potete vedere sono abbastanza sottili quindi diciamo il design del telefono rimane invariato e sì è praticamente come se fosse applicata su questa questa cover rigida trasparente viene applicata la stampa che però è perfetta quella di melina 9 è rimasta perfetta non si è graffiata né niente quindi questa cover è bellissima e quindi niente questo era stato un piccolo unboxing veloce quindi un saluto da silvia wonk al prossimo video ciao ciao